Una pagina, quella dell'ospitalità offerta da San Marino agli ebrei mai approfondita prima che ancora attesta la solidarietà di un popolo e delle sue istituzioni nonostante il rischio che si correva in uno stato sì, neutrale, ma circondato da un'Italia fascista e in guerra. È il segretario agli esteri Antonella Mularoni a presentare alla Regenza il Viale delle Rose di Giuseppe Marzi ricordando anche il valore del testo alla vigilia della giornata della memoria per non dimenticare tutti i genocidi. San Marino, unico paese controllato dall'asse che ebbe il coraggio di proteggere gli ebrei è l'autore Giuseppe Marzi a citare il memoriale di Celio Gozzi nel ricostruire le fasi che hanno guidato la sua ricerca. 12 paesi toccati 11 anni a raccogliere documenti e testimonianze della volontà collettiva di un popolo nel nascondere e proteggere gli ebrei. È successo a San Marino qualcosa che non è successo da nessun'altra parte in Europa e questo va detto. Forse i sanmarinesi sono un po' schivi, non piace loro mettersi in evidenza oppure considerano l'aiuto prestato a chi non aveva bisogno una cosa normale della quale non va sottolineata in qualche modo. Ma viceversa dobbiamo sottolinearlo perché, ripeto, è una lezione importante per tutti noi e per le generazioni che verranno. L'importanza del tenere sveglia la coscienza degli uomini perché tutto ciò non accada più sottolineata dai capi di Stato per i quali il Viale delle Rose rappresenta un omaggio a tutti quei sanmarinesi che non sono rimasti passivi davanti alla tragedia dell'Olocausto e che con il loro esempio insegnano che la libertà del nostro simile dipende anche dal nostro impegno e dalle nostre scelte.